Il Neurofeedback Training sta cambiando il concetto tradizionale di terapia e lo sta facendo grazie alla sua integrazione con le nuove tecnologie. Salute mentale, patologie neurologiche, performance e creatività. Il Neurofeedback agisce direttamente sul funzionamento cerebrale senza effetti collaterali. Neurosystem propone trattamenti all'avanguardia, supportati da solide basi scientifiche e adattabili ad ogni fascia d'età. Videogames, il training cerebrale dinamico mirato allo sviluppo di specifiche abilità cognitive. Raggiungere i tuoi obiettivi non è mai stato così divertente. Streaming audio-video, migliora il tuo stato di benessere grazie a serie e podcast avvincenti. Potrai prendere parte al trattamento senza rinunciare ai tuoi contenuti preferiti. Neurofeedback e realtà virtuale, un'esperienza immersiva in grado di coinvolgere il funzionamento cerebrale su più livelli. Con Neurosystem potrai ottimizzare i tuoi risultati grazie al training di ultima generazione. Remote Neurofeedback. Il tuo training è sempre a portata di mano. La soluzione perfetta per chi non ha la possibilità di recarsi in struttura o per chi semplicemente predilige il trattamento da remoto. Neurosystem. Ci impegniamo ogni giorno per migliorare la tua qualità di vita. Salute. Non c'erra. Si trattHO, ti pare unプ happens a risotto La soluzione чего n'è ausgo? Sì. Non c'erra.